e sono giorni sicuramente importanti per la croce russa di maddaloni i giorni pieni di effervescenza giorni anche pieni di emozioni i giorni che già iniziona ad accompagnare ad un compleanno ad un traguardo importante croce russa di maddaloni presente sul territorio dal 1996 una crescita fatta di passione fatta di impegno fatta di volontariato vero 1996 significa che ci stiamo avvicinando ai 30 anni di attività è un compleanno importante credetemi cari amici di giornale news punto it per quello che questi ragazzi quelli che si sono succeduti quelli che verranno nel futuro hanno fatto in questo tempo noi siamo in compagnia del presidente del comitato coce russa italiana di maddaloni marco de simone persona conosciuta stimata persone che gode di grandi referenze anche a livello nazionale perché affronteremo tanti tanti temi faremo un po non dico una storia da dove è partita la croce rossa fino a dove è arrivata perché ripeto sono anche giorni di emozioni perché proprio in questo periodo a marco de simone ma a tutti gli amici di croce rossa maddaloni sono state consegnate le chiavi di un bene confiscato alla criminalità maddaloni zona via napoli e da questo bene confiscato nascerà davvero un grande polo un grande progetto credo che questa sia la ciliegina la candelina più bella per festeggiare i 30 anni di croce rossa maddaloni marco innanzitutto buonasera ben ben trovato sul giornale news punto it ti chiedo in estrema sintesi prima di guardare al presente prima di strizzare l'occhio anche al futuro di fare una sintesi storica di questi 28 anni di lavoro noi poi diciamo croce rossa sezione di maddaloni comitato di maddaloni ma croce rossa abbraccia anche una vastità di territorio che comprende valle di maddaloni san marco evangelista san nicola la strada c'è il vino santa maria vico san felice a cancello a rienzo quindi un po tutta la valle di suesso da tutto il comprensorio a noi vicini ma come sono stati questi 28 anni sicuramente faticosissimi ma impegnativi ma impegnativi sicuramente ripensandoci oggi siamo partiti da un piccolo gruppetto poche persone senza una sede senza attrezzature senza niente solo con tanta voglia di fare solo con l'entusiasmo e il credere nella croce rossa e nel credere che nella nostra realtà si poteva fare qualcosa di bello l'abbiamo costruito l'abbiamo costruito negli anni con i volontari sono passati tantissimi volontari io ogni tanto incontro per strada persone che hanno fatto parte della croce rossa e che per motivi personali per motivi di cambiamento della propria vita ormai fanno altro però è un'emozione sempre incontrare tante di queste persone che hanno aiutato poi a costruire quello che è oggi croce rossa quindi partiamo da zero per arrivare poi a quello che siamo oggi una realtà più consolidata una realtà forte una realtà che è oggi ha una sede a una sede strutturata a delle attività strutturate abbiamo presenza sul territorio massiva perché poi quasi 30 anni come dicevi tu abbiamo lavorato tanto ci conoscono abbiamo fatto rete con le associazioni del territorio perché senza la rete non si riesce a creare nulla abbiamo costruito pian piano con le difficoltà di un territorio difficile sicuramente ma abbiamo costruito tanto nel 2017 siamo diventati comitato che cosa significa che fino al 2017 eravamo una sede dipendente dal comitato di casetta nel 2017 abbiamo chiesto l'autonomia siamo diventati comitato quindi è uno step importante di crescita perché sì tante responsabilità in più sì tanto impegno in più ma significa poter crescere ulteriormente e abbiamo fatto questo passaggio a questa realtà che ci ha consentito di potenziare i servizi sul territorio potenziare in base a quelle che sono le richieste del territorio e conformarci meglio a quelle che sono le difficoltà del territorio per sopperire a queste difficoltà croce rossa non è solo assistenza alle manifestazioni questo è quello che un po si vede di più è quello che ci dà una certa visibilità ma come croce rossa noi sul territorio facciamo anche tanto altro abbiamo in carico allo stato attuale circa 150 famiglie del comprensorio degli otto comuni a cui afferriamo e acquidiamo un supporto che sia un supporto non solo il pacco alimentare è una cosa che facciamo spot in effetti non è una cosa che facciamo con continuità ma diamo un supporto con la possibilità di avere un'interfaccia se hanno bisogno di visite mediche se hanno bisogno di andare in degli uffici pubblici non sanno quale sono gli iter da seguire quindi li supportiamo in quelle che possono essere delle difficoltà anche banali a volte ma che magari fanno sentire la persona sola fanno sentire la persona in difficoltà facciamo a volte telecompagnia perché c'è tanta gente sulla c'è tanta gente che ha necessità di scambiare due chiacchiere con qualcuno soprattutto dopo il covid questa situazione è peggiorata notevolmente in cantiere abbiamo tanto noi oltretutto oltre all'assistenza oltre a questo aspetto sociale c'è anche tutto l'aspetto delle emergenze perché noi abbiamo il nucleo delle emergenze in croce rossa quindi quando c'è un'emergenza sul territorio che sia la tromba d'aria che sia la bomba d'acqua che sia l'incendio su San Michele noi siamo sempre di supporto a quelle che sono le istituzioni locale a seconda di quelle che sono le necessità perché abbiamo i mezzi speciali abbiamo delle attrezzature che servono a supportare dove ci sia una necessità su uno dei nostri comuni dove non c'è c'è una carenza magari dove magari c'è una difficoltà e possiamo gestire dalla piccola all'emergenza un po' più grandicella insomma in cantiere abbiamo una chicca insomma che poi è un'altra delle nostre prerogative partiremo con una serie di campagne di screening perché la prevenzione sia nel campo dell'emergenza che nel campo della salute per noi è fondamentale quindi organizzeremo la prima data sarà proprio il 19 maggio in piazza Maddaloni saremo con il nostro poliambulatorio mobile faremo le ecografie del fegato ci sarà una specialista che effettuerà questo screening visto che comunque abbiamo visto che c'è una grande richiesta di primo screening proprio perché gli ambulatori sono molto intasati quindi c'è difficoltà a prenotare delle viste e ci stiamo strutturando per effettuare sempre più spesso screening e sempre più diversi in modo da consentire diverse specializzazioni e di consentire alla popolazione di accedere a questi screening che magari possono rilevare delle problematiche più importanti che sono state trascurate un po' perché per pigrizia, un po' per paura dell'ospedale, della cosa e abbiamo visto che invece in strada è più facile che le persone si avvicinino siano incuriosite da questo discorso dello screening dopo una lunga ma efficace sinergia con il comune di Maddaloni che ha accorto la vostra richiesta per appunto darvi le chiavi di questo bene confiscato alla criminalità per la nascita, stiamo vedendo le immagini in sottofondo, credo immagini esclusive, credo il giornale news che primo vi mostra queste dove nascerà questo polo di servizi per le fasce deboli ma non solo, una nuova vita, un nuovo capitolo per Croce Rossa Maddaloni Sì, noi abbiamo lavorato tanto, io devo ringraziare l'amministrazione comunale, la nostra amministrazione comunale che in sinergia ha contribuito a creare questo sogno, a realizzare questo sogno perché noi chiedevamo degli spazi più ampi per poter creare servizi nuovi per la città, per la popolazione E' stato molto emozionante chiudere questo circolo perché dopo un po' di anni di difficoltà dovute alla burocrazia, dovute ai tempi tecnici necessari Abbiamo acquisito finalmente questo bene confiscato alla criminalità organizzata che ci consentirà di creare una sorta di polo d'eccellenza per la nostra realtà, noi lì faremo una sala di formazione per circa 100 persone dove faremo la formazione ai volontari faremo i corsi di formazione alla popolazione, faremo sinergia con altre associazioni ma che possiamo divulgare sempre di più la prevenzione, la prevenzione sanitaria, la prevenzione delle emergenze avremo un poliambulatorio gratuito per le persone in difficoltà proprio perché abbiamo detto ci sono file molto lunghe, tempi molto lunghi non tutti possono permettersi la visita specialistica per accorciare i tempi esatto, per accorciare i tempi, avremo uno sportello di ascolto, avremo un punto di coordinamento ma soprattutto io quello che ho sempre detto Croce Rossa è un punto di incontro per i volontari è un punto per stare insieme, per crescere in maniera pulita per crescere in maniera corretta e con degli ideali noi abbiamo, considerando che noi abbiamo circa 130 volontari in tutte le fasce di età quindi questa è una cosa molto bella perché diventa un punto di ritrovo quando ti hanno proprio consegnato le chiavi, il glitter finalmente terminato che cosa hai provato? Io ti chiedo proprio di sensazioni, senza andare nel tecnico ecco, dall'illegalità, dal bene confiscato, la nascita di un qualcosa per la comunità cosa hai provato? Sì, io, noi siamo nati come Croce Rossa per migliorare quella che è il nostro territorio dare al nostro territorio e credo che avere un bene che sarà riconvertito è un segnale importante per il nostro territorio, è un segnale di speranza per il nostro territorio e soprattutto è importante per i giovani, anche per i meno giovani che ormai hanno perso un po' le speranze credono poco nelle nostre realtà, perché poi la difficoltà più grossa che proviamo noi è che ormai tanta gente non crede più nelle nostre realtà e secondo me questa struttura che verrà realizzata aiuterà a ricredere tante persone del territorio e aiuterà a dare una speranza in più per il territorio Marco, ma prima di salutarci, vogliamo lanciare un bel appello accorato se io voglio diventare un volontario della Croce Rossa Maddaloni cosa devo fare? diciamolo proprio senza aprire nessuna lingua poi anche quali possono essere dei miei eventuali vantaggi? Certo, allora diventare volontario è un percorso lungo nel senso che Croce Rossa ci tiene molto alla formazione non consente ai volontari di fare attività se non hanno la giusta formazione si parte con un corso base che oltretutto partirà il 26 maggio avremo un corso di reclutamento aperto a tutte le fasce d'età quindi dai 14 anni in su in questo corso di reclutamento vedremo un po' di primo soccorso un po' di diritto umanitario internazionale un po' che cos'è la Croce Rossa, che cosa fa la Croce Rossa perché non tutti ancora hanno l'idea di che cosa è la Croce Rossa molto la leghanno solo all'ambulanza, al sanitario terminato questo corso i ragazzi fanno un percorso di affiancamento con noi in cui vedono le diverse attività che facciamo gli insegniamo i regolamenti, gli insegniamo come interagire con le persone come comportarsi in servizi poi ci sono i corsi di specializzazione, che sono dei corsi di secondo livello in effetti che sono per l'ambulanza magari, oppure per il sociale oppure per l'emergenza oppure per l'emergenza intesa come protezione civile in effetti quindi a seconda di quelle che poi sono le prerogative anche del volontario perché un volontario può piacere più lavorare sul sociale anziché sull'ambulanza e quindi ci sono questi corsi che ti consentono di specializzarsi ci sono poi dei corsi ulteriori che consentono magari di specializzarsi per la formazione cioè le persone vengono preparate ad insegnare ad altri volontari perché un volontario senza formazione fa poco un volontario formato può aiutare meglio e può dare una mano alla popolazione alla persona in stato di necessità per mettersi in contatto con voi c'è qualche recapito social? sì, noi abbiamo la pagina Facebook che è Croce Rosso al Comitato di Maddaloni abbiamo il canale Instagram la mail è maddaloni-lacri.it sulla pagina Facebook troverete anche il numero di telefono a cui risponderanno i ragazzi del servizio civile anche perché noi abbiamo attivo anche il servizio civile da tre anni e potranno chiedere informazioni per il corso e per avvicinarsi ci servono tanti volontari più ne siamo più riusciamo a fare Marco, per salutarci qualora ce ne fosse bisogno Croce Rossa italiana Comitato di Maddaloni basata dalla penna fino alla grande opera tutto sulla passione dei volontari sulle donazioni, sugli sponsor su persone che vogliono stare vicino tutto quello che fa Croce Rossa il servizio d'ambulanza è tutto appunto basato senza contributi esterni e quindi vogliamo anche dire che c'è la possibilità di starvi vicino anche con il... Sì, con il 5x1000 è uno strumento che ci consente di realizzare dei progetti un po' più importanti proprio perché abbiamo detto ci autososteniamo ci sosteniamo con alcune delle attività che facciamo perché ci saranno delle donazioni che ci arrivano piccole donazioni e quindi il 5x1000 ci aiuta a crescere più velocemente ci aiuta a creare servizi sul territorio più efficienti e ci aiuta soprattutto a essere sempre più capillari sul territorio quindi vi chiedo di aiutarci col 5x1000 o con delle donazioni che possono essere fatte direttamente al nostro IBAM il 5x1000 sarà sicuramente una fonte che ci aiuterà a sistemare il bene che ci è stato consegnato dall'amministrazione comunale mi raccomando in questo periodo di dichiarazione dei redditi 5x1000, Croce Rossa Italiana, Comitato di Maddaloni e sappiamo veramente attivando i nostri soldi e soprattutto come vengono utilizzati Dottor Marco De Simone, grazie di cuore per questa chiaccerata il nostro è semplicemente un arrivederci e di ritornare presto sui luoghi che vedranno nascere magari per l'inaugurazione per l'inaugurazione e vedere l'evoluzione abbiamo visto adesso come stanno combinati stanno per iniziare i lavori poi vedremo il dopo e poi vedremo dopo buon lavoro ragazzi grazie